Arrivano i soldi per la metropolitana, per la linea della metropolitana, come ho avuto modo di scrivere al sindaco prima della fine dell'anno, purtroppo c'era stato anche un problema tecnico ascrivibile al governo, non a Napoli, che abbiamo risolto il più rapidamente possibile, non appena il sindaco mi ha informato e quindi diciamo che i lavori potranno proseguire. Sto seguendo il completamento di quello che già c'è e sto valutando tutta la parte finanziaria di quello che ancora va fatto. Come sapete questo è un processo che ha bisogno di qualche settimana, non è una cosa che si può liquidare in pochi giorni, però la determinazione del governo è quella di dare a Napoli la sua infrastruttura completa. Poi è ovvio che probabilmente non la vedrò da ministro, ma sono sicura che darò il mio contributo affinché questo accada.